Dobbiamo decidere il team che porta fortuna e il luogo Dai andiamo alla Wang Shuin Allora ragazzi, che team attira Xiao? Chi ha scritto Diluc? Vi vengo a prendere a casa eh ragazzi Chi ha scritto Diluc? Nooo hai fatto la... Nooo vabbè non potete capire cosa ho appena visto Ma sei un matto Fatti vedere Fatti vedere Cioè guardate cosa ha fatto Francesco Vieni Cioè ha fatto la maschera di Xiao Io non lo sapevo ragazzi Se me la fate vedere adesso Me la presti? Ho la maschera di Xiao Devo pullare io Va bene pulla tu Allora Non lo sapevo ragazzi Eh lo so che l'hanno cancellata Ma io me la sono guardata in anticipo Nooo Fra è bellissimo Dopo ordiniamo i sushi Stasera mi sfondo di sushi Te lo pago se vuoi Te lo sei meritato Ripetiamo Ascoltatemi bene Tutti pronti? Allora come sono messa a livello di Piti? Sono messa che ho fatto una multi Dopo aver trovato Ganyu Per cui Me ne mancano Ottanta Per il Piti Vero e proprio E Sessanta Per arrivare a settanta E cioè per andare a soft Piti Come al solito ragazzi Io mi scrivo Ho la mia penna Il mio La mia carta Il mio Il mio Siao qua Io mi vado a scrivere Eccolo che arriva Io mi vado a scrivere Eh man mano che faccio le multi E allora adesso Eh mi metto a contare E quando arriviamo verso i soft Piti Stop Siao devo dire che invece è carino Ho ruolato degli artefatti bomba cannone Per cui È arrivato il momento Iniziamo con una bella multi? La vuoi fare tu Siao? Ci siamo ragazzi Scusatemi se adesso non vi leggo Vi leggo poi dopo Ma Ecco dopo Ciao ragazzi Allora Siao per favore Potresti pullare te stesso? Ok Vai con una multi Partiamo No sì Quello ho sbagliato La X era triangolo Va bene dai Se iniziamo così Già non andiamo bene Ma perché Sono abituato al cellulare Ho capito Che poi Un angolo per favore Un angolo Ce l'ho Ok let's go Ok 4 stelle Allora Chi voglio di 4 stelle ragazzi Shinien E Beidou Perché Diona ce l'ho già Ci sei Però con Diona Non mi arrabbio Perché comunque Le voglio bene Bella l'evocazione Con Siao Trova le bombe Dove sono le bombe Siao? Eee Bravo Bravissimo Shinien ci piace Shinien ci piace Vai avanti Molto bene Questa prima multi Lei è C5 Credo Quindi dovrei poterla fare C6 Con la versione gratuita Se non ne trovo altre Vabbè adesso inizio a usarle primo James Let's go Ok Io mi sento Oggi mi sento un po' Forte C'ho Siao qua Non può Dai Esce 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 Ragazzi Ok Ravensbow Padino Un po' di Beidou In the house Te piace anche Beidou Sì Io voglio Beidou Ma no Ma l'ho già Rank 5 No Arma inutile Raga Purtroppo L'ho già fatta Rank 5 No Questa multi è stata vuota Adesso ne faccio Let's go Forza Siao Tocca il joystick Bravo E dai cambiamo Let's go Ok 4 stelle 3 Non sta lagando Noee Ci sei Adesso ho bisogno di Beidou Una donna che arriva quando la chiami Una donna che arriva quando la chiami Signori Beidou C3 Ragazzi Adesso ho bisogno solo di Beidou Tutti pirati qua Tutti pirati Yar Yar Dei 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 Cos'è che era di Lazy Lazy Town Mi è piaciuta Stamulti ragazzi Ho già trovato Siao Non so mica Zergantis ragazzi Ma che ho trovato Siao Comunque Sì Lei è finita Adesso mi servono solo le Beidou Quarta multi Pulato più forte di testa A vedere la prossima Adesso ti tiro fuori Siao Stasera vincerò contro Pizza Boy Stasera Ho già finito la mia fortuna Il giorno prima che finisse il banner Con la Mosbow È vero Ha trovato Ganyu Ha trovato la Mosbow Lui ha l'account totalmente Free to play ragazzi Via Let's go Quattro Mamma mia Sto Siao Si fa tendere Siao tarocco uguale di Beidou Allora No Non azzardatevi Eeeh Beidou Mamma mia Ma impara Impara Nabbeto da strapazzo Impara come si pulla Va bene Nabbeto da strapazzo Ottimo Beidou Ragazzi Più Beidou Arrivano meglio Eeeh C4 Faccio tutto C6 Ok Dai vado io Quinta Ne mancano due caro Le fai tu Faccio io due Ah Prego Triangolo Si E lui E lui No Dai dove Oh Dai ciao Eccolo Eccolo Siamo fuori dal Siamo fuori dal Siamo fuori dal tunnel Dal tunnel ragazzi Del divertimento Secondo me era molto lungo Si Diona Diona portamelo 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 Tu sei Tu sei Diona Io lo so Io lo so Che sei arrivata Stai spargendo i confetti Perché sta arrivando Siao Sta preparando il cocktail Lo so Vai vai Lo so Fammele vedere Fammele vedere Quelle lance lunghe Cattivi Un due 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 signori Ti ho dato una spera Scusa Tanto La doppia Diona La doppia Diona Vuol dire una cosa sola No Mona No Ma perché è un caricamento infinito Mona Mona is the new Diluc Mona è il nuovo Diluc Non dovevate portare Mona Mona è il nuovo Diluc No Mona va bene Mona va bene Non posso neanche memarla ragazzi Mona Ma sto caricamento infinito Per Mona Dovevano caricare Non lo so Il 3D delle chiappe No No ci spera Mona No Mi hai Ero delusissimo Di solito Con i caricamenti lunghi Abbiamo le due Alcoli No Le due bariste E l'alcolista Senza soldi Mamma mia Beh sono contenta Perché Mona non ce l'avevo Vediamo le sciopette Sciopette Di rinno Ragazzi Tiriamo fuori anche siamo adesso Denial Denial La doppia Diona parla chiaro Qua bisogna continuare Denial L'alcolista Senza soldi Mona Best wife Ragazzi Oggi Oh Senza soldi Queste sono le tue prime gems Dove sono? Sparite Te comunque sei proprio farlocco eh Sei proprio uno siao farlocco Allora È veramente bella Posso dirlo che Io sono un po' Mona fag Cioè come estetica È Bellissima Con lei mi divertirò ragazzi Non la ritengo Così OP A livello di tier list Come molti dicono Ma non me ne frega Nulla La trovo Molto 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 bella Mona è la benvenuta E soprattutto ragazzi Manca solo Jin Kalandorf Passamela Manca solo lei E poi ho tutti I 5 stelle di base ragazzi Manca solo Jin Spero di trovarla Prima o poi Beh Se non altro L'aver pullato Mona Lascia intendere Che il gioco ritiene Che io abbia Un bel sedere Non credo Non credo Ci ho provato Allora Andiamo avanti Siete pronti ragazzi Sì Io so pronto Prego E vorrei Mi dai subito Siao Subito così Siao Eccolo E don't think so Ragazzi Purtroppo Adesso mi manca solo Beidou Quindi sarà un po' La fiera Devo sperare Di andare fuori banner Non lo so Fare cosa Beh comunque Voglio shoppare stasera Perché così Vedete la mia schermata Scusami è vero Devi toccare Tu Sì questo è buono No l'avevo già finito Niente No non mi serve Dimentico che Sono tutte le armi In rate up Vai piano Mi impalli Ma vai piano Non sei molto forte Stasera T'ho trovato Dai doppia Beidou No ma la pool di Mona Era anche forte Dai Siao Dove sei Dove sei Siao Non c'è Vai là Vai dentro Sì Beidou Ma come sto pullando Stiamo pullando No sto pullando anch'io Sto pullando Caro Bene Dai prossimo La fantina Andiamo Cos'è Questa roba Bella sta triple Cos'è Bella Io metti Chienero Io metti Chienero in fila Cos'è sta roba Oh No no Non credo Non credo Ci spero Eh no Che il caricamento Posse più lungo Dopo Dopo intervengo Giusto per il fatto Che abbiamo trovato Mona subito Eh E non si continua Di singole Regrock Perché abbiamo già Ragazzi sto pullando I 4 stelle in fila Sto pullando I 4 stelle in fila Sto pullando I 4 stelle Io sto pullando I 4 stelle Questa adesso Cos'è C4 C5 Vado a fare C6 Anche lei Ma GG Di brutto Sto pullando I 4 stelle in fila Fa una roba Alla prossima Multi Gioco Mi dai Ninguan Già che stiamo pullando Così Comunque siamo I 594 Io ragazzi Non ho parole Una parola Ce l'ho Si scioppa Pronti Ready Let's go Via Gli piace Gli piace l'odore Dei miei soldi Assiao Guarda che strano Gli piace l'odore Dei soldi Assiao Altro che gnocca Questo vuole I dollaroni Aspetta che Sarò di look No impossi Doppio 5 stelle No queste Si ha garantito Si ha garantito Garantito Ragazzi Qua Ve lo insegno Questo video è stata Una dimostrazione Abbiamo preso Un 5 stelle Che non era in rate up Il prossimo 5 stelle È garantito Quello in rate up Io sono pronto Per un bravo Cioè Questa mi mancava Ciao Eccolo È arrivato Ciao Ciao Vuoi uscire con me? Ah si Da dove? Ormai mi hai rilegato Mi hai rilegato Della tua squadra Quindi devo Cosa ti piace mangiarmi? Andiamo a mangiare la pizza Ti va? Io mangio solo fiori C'ho una bella squad Piena di ragazzine belline Tutte per te Guarda che fiero È bellissimo Quest'immagine tra l'altro Ragazzi è bellissima Comunque potevo anche evitare Di scioppare No aspetta un attimo Io avevo appena rotto il pity? No Non penso Ah no no Non è vero No è stata la quarta No è stata la quarta Ragazzi è come 20 Si ha come 20 ragazzi Perché 20 mi era uscita la quarta Mi è uscita la quarta Wow Ho trovato 2 5 stelle fuori Da soft pity Mi sa che è stata la mia migliore serata Sai Cicino Devi venire più spesso con la maschera Magari c'è un altro 5 stelle Ma non posso vestirmi da Keqing Nel prossimo banner Keqing ce l'ho già caro Quindi puoi evitare Ti dovrai vestire Ti dovrai vestire da becchino Non dico altro Ragazzi Con anche una bella Favonius Sword Che ci sta sempre A Bemus Xiao E Xiao Entra di diritto All'interno Del mio record personale Di 5 stelle trovati più velocemente Perché sia lui che 20 Mi sono usciti alla quarta multi Bellino Lo so Io non ho mai pullato così A parte per 20 E ribadisco ragazzi Anche Mona mi è uscita Io ho qui calcoli Io avevo fatto una multi Se aggiungo la multi Che ho fatto all'inizio Mona mi è uscita Alla multi Tra il 50 e il 60 Non era soft pity E Xiao mi è uscita Tra il 30 e il 40 Non è soft pity Sono stata fortunata Penso perché So per certo Che ci sono Non è che tutti hanno preso Xiao Vi sembra che tutti l'abbiano preso Perché tutti l'hanno pullato Ma non è così No ragazzi È stata una serata incredibile Il resto delle primo gems Ve lo dico Lo tengo Perché il banner delle armi Non mi serve Perché la lancia di Xiao Ce l'ho già Questa lancia qua Io ce l'ho già E la spada Non mi serve Perché su Keqing Gioco già in maniera Abbastanza soddisfacente Anzi Molto soddisfacente Della black sword Bottino di oggi E anche lei Sì Olè Vestiamolo Vestiamo il nostro bambino Ti va di essere vestito Comunque siamo in 618 Nuovo record assoluto Del twitch Siete allucinanti Siete incredibili Spaccarmi in altre vocazioni Hai visto? Ragazzi Avete visto cosa ha fatto? Che cosa ho fatto? Guarda Wow È bellissimo No aspettate che gli metto La lancia giusta Questa Signori È Il primo 5 stelle Che ho trovato Dal banner base La lancia di Xiao Fatemelo rivedere Con la sua lancia Ne sai caro Ne sai Ne so troppe Ne sai Ne sai Come sapete Chi ha seguito Le mie live Lo sa Io sono già pronta Casco Crit damage Poi Come coppa Gli do Questa qui Con anemo damage E crit damage 20 Clessidra Gli do questa Piuma Questa E fiore Gli do questo Questo ragazzi E Xiao All'uno Xiao All'uno Yes Ho rollato forte Ragazzi Ho rollato forte Lo sa Lo sa Grazie.